Il diritto penale Iniziamo col dire che l'oggetto sostanziale del diritto penale è il problema della pena, il problema del punire, che riveste una centralità nel rapporto tra la gestione dei conflitti sociali e in generale tra individui e Stato. Per quanto riguarda la pena, un punto fondamentale è determinare di che tipo di pena si sta parlando in un determinato Stato. Legittimazione e compiti del diritto penale Teoria della pena e del tipo di Stato La teoria della pena sono fondamentalmente tre. Abbiamo la teoria retributiva, quella generalpreventiva e quella socialpreventiva. La teoria retributiva viene intesa come teoria assoluta, le altre due invece come teorie relative. Per quanto riguarda la teoria retributiva, essa prevede che la pena statuale si legittima come un male inflitto dallo Stato, per compensare, quindi per retribuire, il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società, quello che nella forma più primitiva veniva inteso come la legge del taglione. In quanto disinteressata agli effetti della pena, la teoria retributiva viene designata come assoluta, ovvero svincolata dalla considerazione di un qualsivoglia fine da raggiungere. Infatti, secondo la teoria retributiva, si punisce perché è giusto, non perché vi sia un fine particolare. Secondo la teoria generalpreventiva, invece, viene legittimata la pena come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, in primo luogo facendo leva sugli effetti di intimidazione correlati al contenuto afflittivo della pena, alla quale si assegna una funzione di contropspinta psicologica, tale da neutralizzare le spinte a delinquere dei consociati. Nel lungo periodo, infatti, si confida che si crei nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge penale stessa. Vi è poi la teoria socialpreventiva, in base alla quale la pena è vista come uno strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati. Questa funzione parte dalla risocializzazione, quindi il reinserimento, ma se questo non fosse accolto positivamente dal reo, allora si procederà con l'intimidazione e in estremis con la neutralizzazione. Non esiste ad ogni modo una teoria della pena che si imponga come vincente per la sua superiore intrinseca razionalità. La legittimazione della pena è infatti varia seconda del tipo di stato in cui si pone il problema. Struttura del reato e tipo di stato Così come la legittimazione della pena è strettamente correlata con il tipo di stato in cui si pone il problema, diciamo che anche la struttura del reato è sottoposta ad un identico condizionamento, sia nella forma sia nei contenuti. Il reato è infatti un'entità giuridica storicamente condizionata. Infatti, se pensiamo ad esempio all'illuminismo, il reato era visto come un fatto dannoso per la società. Nella scuola positiva, invece, il fenomeno criminale avrebbe le proprie radici nell'uomo delinquente. Dunque, la lotta alla criminalità dovrebbe rivolgersi non tanto contro il reato, quanto più contro il reo, quindi contro il colpevole. Mentre nel nostro stato, laico, secolarizzato e pluralista, la pena non può certamente essere uno strumento di retribuzione. Legittimazione del ricorso alla pena da parte del legislatore. Nel nostro stato, la pena non può essere utilizzata dal legislatore come indiscriminato deterrente e il ricorso alla pena da parte del legislatore italiano si legittima in chiave di prevenzione generale come unico limite quello della rieducazione. Il limite della rieducazione è contenuto nell'articolo 27 della Costituzione. Infatti, al comma 3, viene disciplinato il fatto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. I comportamenti che possono essere dissuasi attraverso appunto il deterrente della pena sono quei comportamenti che vanno a ledere o porre in pericolo le condizioni di esistenza o di sviluppo della società. Per quanto riguarda l'applicazione della pena, vi sono quattro principi fondamentali che il legislatore in primis deve rispettare e poi anche il giudice, chiaramente. Il primo è il principio di offensività, poi il principio di colpevolezza, di proporzione e di sussidiarietà. Il principio di offensività consiste nel prevedere che non vi possa essere un reato senza l'offesa ad un bene giuridico, cioè ad una situazione di fatto giuridica, carica di valore e quindi offendibile per un comportamento dell'uomo. Il legislatore infatti può punire solo quei fatti che ledono o pongono in pericolo l'integrità di un bene giuridico e la Corte Costituzionale ha infatti definito il principio di offensività come costituzionale, dunque vincolante sia per il giudice che per il legislatore. Il principio di offensività è considerato costituzionale perché è ricavabile dall'interpretazione sistematica dell'articolo 25 della Costituzione, appunto opera sia in astratto quindi nei confronti del legislatore che in concreto quindi nei confronti del giudice e va a tutelare il bene giuridico che può essere individuale come ad esempio la vita o l'integrità fisica della persona oppure collettivo come ad esempio il corretto svolgimento della pubblica amministrazione. Anche l'offesa può essere di due tipologie, diretta come ad esempio l'omicidio o indiretta come ad esempio il tentato omicidio e il limite che il legislatore ha per appunto l'esercizio della pena è la proporzionalità dell'offesa. Vi sono dei beni giuridici di importanza preeminente come ad esempio la vita che consentono al legislatore stesso di applicare una tutela preventiva in anticipazione della tutela appunto. In alcuni casi il legislatore può tutelare anche il pericolo astratto. Si tratta comunque di un principio debole perché è molto vicino a valutazioni politiche del legislatore e nella prassi si è fatto ricorso allo stesso solo qualora la violazione era palese. Vi sono quattro sentenze che possono essere utilizzate come esempio per comprendere cosa si intende per violazione palese. Nella sentenza 189 del 87 ad esempio la Corte ha confermato l'illegittimità costituzionale per la sproporzionata e razionale previsione di una sanzione penale ovvero un'ammenda per la trasgressione al divieto di esposizione in pubblico di bandiera estera senza autorizzazione. La Corte infatti denuncia la mancanza del bene giuridico da tutelare mediante tale norma. Anche nella sentenza 519 del 55 la Corte denuncia l'illegittimità della pena per chi mendica in luogo pubblico perché non è sufficientemente rilevante la tutela della tranquillità pubblica che non viene posta in pericolo dalla mera mendicità e dunque questa sentenza ha portato poi all'abrogazione dell'articolo 670 del codice penale. Abbiamo poi la sentenza 354 del 2002 che determina l'illegittimità dell'arresto per chi in stato di ubriachezza avesse già riportato una condanna per delitto contro l'individuo. In questo caso la finalità rieducativa della pena viene persa e viene violato anche il principio di offensività. Inoltre la condanna precedente anziché rieducare il reo andrebbe a marchiarlo a vita ingiustamente. E infine la sentenza 249 del 2010 denuncia l'illegittimità dell'aggravante che consiste nel commettere il fatto trovandosi illegalmente nel territorio nazionale per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione e dunque del principio di uguaglianza e di quello di offensività. Questo perché tale aggravante andrebbe a penalizzare la persona e non il fatto. Abbiamo poi appunto il principio di colpevolezza in base al quale il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima in relazione ad offese arrecate colpevolmente ovvero azioni personalmente rimproverabili al loro autore. Anche questo principio ha rango costituzionale ed è strettamente correlato alla funzione della pena. Infatti si va a rieducare il colpevole. Poi vi è il principio di proporzione o meritevolezza in base al quale la pena deve essere proporzionata al disvalore del fatto commesso dell'illecito sia in base al principio 27 contenuto nell'articolo 27 della Costituzione quindi la rieducazione del condannato sia in base al principio di uguaglianza e ragionevolezza contenuto nell'articolo 3. Infine abbiamo il principio di sussidiarietà in base al quale la pena viene utilizzata soltanto quando nessun altro strumento sanzionatorio o non sia in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace quindi solamente quando è necessaria. Questi quattro principi possono essere riassunti dicendo che il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima nel nostro ordinamento per finalità di prevenzione generale entro i limiti imposti dal principio della rieducazione del condannato a tutela proporzionata e sussidiaria di beni giuridici controffese inferte colpevolmente. Legittimazione dell'esecuzione della pena da parte del giudice una volta che il legislatore determina quali sono le pene sarà poi il giudice a pronunciare la condanna definitiva e a infliggere la pena. Un carattere fondamentale della pena che rende effettiva la funzione di prevenzione generale è proprio l'effettività della pena stessa. Infatti far seguire alla previsione legale della pena la sua applicazione in concreto con la pronuncia della sentenza di condanna significa proprio confermarne la serietà sia della minaccia contenuta nella norma incriminatrice che appunto della norma stessa mostrando i potenziali trasgressori della norma che non potranno violarla impunemente. Tuttavia la violazione generale la prevenzione generale non può svolgere nessun ruolo nella commisurazione della pena. Vi sono due limiti alla funzione rieducativa che sono l'impossibilità di condurla coattivamente infatti la rieducazione deve essere offerta come un aiuto e non imposta e poi in alcuni casi estremi la rieducazione deve cedere il passo alla neutralizzazione del condannato e questi casi sono quando appunto il condannato non accetta di essere rieducato e quindi non migliora la sua condotta. Rapporto tra diritto penale e altri rami dell'ordinamento Il diritto penale si può porre in due tipologie di rapporti con gli altri rami dell'ordinamento il rapporto di accessorietà quando il reato è considerato come illecito anche da un altro punto di vista quindi da un altro ramo dell'ordinamento oppure autonomia quando la legge conferisce autonomo significato a un termine agli effetti della legge penale appunto ad ogni modo però è inammissibile che uno stesso fatto venga considerato favorevolmente da una branca e negativamente da un altro Per quanto riguarda invece i punti in comune e le differenze che il diritto penale ha con gli altri rami dell'ordinamento li possiamo riassumere in una sorta di punti essenziali Il diritto penale è afflittivo e incide sulla libertà personale e questo è ciò che lo caratterizza rispetto all'illecito amministrativo che invece non ha alcuna incidenza sulla libertà personale è semplicemente un'incidenza sul patrimonio Poi il diritto penale è stigmatizzante questo è un carattere proprio insieme alla riattività alla criminalità che lo contraddistingue da ogni altro ramo dell'ordinamento Il diritto penale è poi uno strumento di valutazione negativa dei modelli comportamentali per collegarvi alla relativa sanzione e questo lo distingue dal torto civile così come la tipicità mentre nel torto civile si parla di qualsiasi danno cagionato ingiustamente quindi è atipico e anche il fine del diritto penale è quello general preventivo mentre della terapia sociale ad esempio è promozionale quindi di ripristino del benessere sociale e nel torto civile è meramente satisfattivo Diritto penale problemi probatori per quanto riguarda le regole probatorie l'onere di provare gli elementi costitutivi di un reato incombe sull'accusa in luce del principio della presunzione di non colpevolezza stino alla condanna definitiva infatti prendendo sempre l'articolo 27 della costituzione al comma 2 si legge come l'imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva legislazione penale italiana in Italia il primo codice penale risale al 1890 ed è il codice Zanardelli che vanta una forte impronta liberale è stato poi sostituito dal codice Rocco nel 1931 il problema di questo codice che è sorto in un periodo in cui vi era un contesto autoritario ovvero lo stato fascista quando lo stato fascista è decaduto sono state introdotte una serie di modifiche a questo codice e anche la corte si è espressa più volte al fine di valorizzare i principi costituzionali di colpevolezza riserva di legge eguaglianza ragionevolezza e rieducazione vi sono due sentenze che possiamo citare in questo ambito che seppur molto recenti mirano allo stesso fine ad esempio la sentenza 253 del 2019 in merito di ergastolo stativo nella parte in cui esclude il condannato all'ergastolo per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni che non abbia collaborato con la giustizia non possa appunto essere ammesso alla fruizione di un permesso premio questa parte dell'articolo 4 bis è stata dichiarata illegittima dalla corte costituzionale in luce di tre motivazioni la perdita della funzione reeducativa della pena la perdita della valutazione individualizzata caso per caso e la presunzione assoluta la quale violava appunto il principio di uguaglianza perché arbitraria e irrazionale nella sentenza 149 del 2018 invece la corte si è posta a giudicare la legittimità della preclusione all'accesso ai benefici penitenziari per i primi 26 anni della durata dell'ergastolo a colori a colori